Se ritragano Lovenside e Lustig DVM, stacco della macchina, partiti. L'errore di Laverne Chiu, in vantaggio senza spesa Leonardo Griff nei confronti di Lira degli Dei, Lustig DVM alla retroguardia del quartetto esente da errore Lovenside. Lancio in 14.6, si è ritirata intanto la Serie Gris, completamento del primo quarto di gara, tutto tranquillo per Leonardo Griff che chiude i 400 d'approccio in 32. Passaggio davanti alle tribune, Leonardo Griff guida con un paio di lunghezza di margine nei confronti di Lira degli Dei, lascia più o meno identico intervallo, Lustig DVM alla retroguardia sempre Lovenside. 600 in 45.9, quartetto a Fisarmonica all'imbocco della seconda piegata, a scandire il tempo in avanti pensa sempre Leonardo Griff sull'Ira degli Dei, Lustig DVM e Lovenside in un ordine che non muta dalla partenza. Da lontano insegue Laverna Chiu, secondo parziale in 31, metagara in 1.1 e 2 e Leonardo Griff prosegue a quel paio di lunghezze avanti all'Ira degli Dei. Più dietro Lustig DVM riaccostato da Lovenside, il chilometro di testa in 1.15.8.30 dal pallo si mette a retta di fronte, va in solitaria Leonardo Griff che ha acquisito ulteriore margine e vantaggio nei confronti di Lira degli Dei. All'imbocco della piegata finale, la terza frazione in 29.3, 14.8, l'ultimo palletto a dritte, la 5 lunghezze in margine per Leonardo Griff a metà dell'ultima curva, Lira degli Dei. In seconda posizione continuano a lottare per il terzo Lustig DVM e Lovenside, ingresso e a dritto arrivo Leonardo Griff in largo vantaggio sull'Ira degli Dei. Leonardo Griff che viene a rifinire il tutto, abbozza Lira degli Dei, riaccostata da Lustig DVM e Lovenside nel finale. Leonardo Griff che domina il campo, vince con meno di una settantina di metri nei confronti di Lira degli Dei e Lustig DVM. 2-1, un filo abbondante in totale, 37 gli ultimi 4, 15.